Titanus, un universo di emozioni, sentimenti e personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano. Momenti indimenticabili, nuove storie e nuovi protagonisti pronti a trascinarvi nell'emozionante universo cinematografico. Titanus. Titanus Legacy, la linea editoriale che parte dalle icone del passato e dai titoli che tutti hanno amato per creare prequel, sequel, reboot e remake adatti ad un pubblico in continua evoluzione, una library sconfinata dalla quale attingere e un punto di riferimento per questo comparto cinematografico. Piedoni. Il mitico commissario Rizzo passa il testimone a un investigatore contemporaneo pronto a risolvere casi incredibili nella Napoli di oggi. Una serie sequel ispirata al grande Bud Spencer. La Ciociara, il capolavoro del cinema che ha reso Sofia Loren una star mondiale, diventa una serie prequel e sequel che racconta la storia di Cesire e Rosetta partendo da cento anni fa. La storia della Ciociara prima, durante e dopo le vicende narrate nella celebre opera di Moravia. Palermo-Milano. Un'icona dei film polizieschi degli anni 90 si appresta a diventare una serie TV moderna. Azione e adrementi sono alla base di questo reboot nel quale dei poliziotti alle primarie diventeranno degli eroi. Le atmosfere horror di fenomeno del visionario maestro Dario Argento ispireranno una nuova opera che ha tutte le carte in regola per terrorizzare e appassionare il pubblico mondiale. Con Titanus Originals, Titanus crea una nuova linea editoriale che si basa su di un chiaro valore culturale e una forte vocazione commerciale. Tre storie potenti e incredibili pronte a entrare nell'universo Titanus e a ispirare la legacy di domani. La guerra di Elena. La vera storia di Elena di Porto, ebrea romana che negli anni 40 si ribella alle regole degli uomini e dei fascisti. Una donna che passerà alla storia per aver salvato innumerevoli vite durante un rastrellamento al ghetto di volo. Agnese e Francesca. L'emozionante storia inedita dell'amicizia tra due donne coraggiose e forti che sostengono un pesante fardello essere le mogli dei magistrati Falcone e Borsellino. Luddi. La storia vera dell'insospettabile coppia di serial killer più prolifica d'Italia. Un duo di assassini senza scrupoli che per dieci anni ha seminato il panico nel nostro paese. Con Legacy e Originals, Titanus continuerà ad emozionarvi. Dal 1904.